Weekend nero per le campane del Girona C nella 27esima giornata, a cominciare dalla Gelbison di Mr. De Sanzo che perde in casa quello che è uno scontro diretto per la salvezza contro il Messina che vive un periodo molto importante di forma ed espugna così il Guariglia 2-1. Il vantaggio all'ottavo minuto è firmato da Oliver Kragal, protagonista di giornata, mentre alla sedicesimo arriva il pareggio di De Sena che però non basta nella ripresa. Infatti il Messina rimette la freccia ancora con il suo top player, doppietta per Kragal, il tedesco regala 3 punti d'oro ai siciliani. Non vive un buon periodo invece il Giuliano di Mr. Di Napoli al partenio Lombardi, passa il Monterosi 2-0. Il vantaggio è firmato dal solito Rocco Costantino al 38esimo, inutili i tentativi delle Tigri al 92esimo. Alia viene espulso col Monterosi che resta in 10, ma Tolomello al 97esimo firma, addirittura il raddoppio laziale. Doveva essere l'occasione da non sciupare per la Turris e invece i Corallini perdono in casa del Monopoli. Primo tempo a reti bianche succede tutto nella ripresa, al 48esimo espulso, Dinunzio che lascia in 10 gli uomini di Fontana. Al 58esimo espulso anche Fella, entrato poco prima, e il Monopoli trova il vantaggio con Erasmo Moulet al minuto 60. 11 minuti più tardi il raddoppio di Giannoti che chiude definitivamente il match, Corallini a 4 punti dalla salvezza diretta. 0-0 invece tra Juve Stabia e Taram Topochesi, non riesce a trovare la prima vittoria sulla panchina delle Vespe dopo le due sconfitte di fila. Giallo-Blu che perdono quota e si ritrovano a meno 4 dal quarto posto in ottava piazza. Grazie. Grazie.